Una settimana senza Antonella, questo è il conto che sarà aggiornato domani allo scoccare di mezzogiorno, quando saranno sette giorni esatti dal momento in cui la 51enne casamicciolese Antonella Di Massa ha dato l'ultimo segnale di sé, venendo ripresa da una videocamera di sorveglianza in quel di Suchivo. Da quel momento è diventata un fantasma, nonostante l'abbiano cercata sotto il coordinamento del comandante della compagnia dei carabinieri di Ischia Tiziano Laganà, droni, elicotteri, militari dell'arma, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco, protezione civile, speleologi, nuclei specializzati, unità cinofile, cani molecolari, volontari, conoscitori delle aree verdi che costeggiano la zona di Suchivo, dove la donna ha come detto fatto perdere le sue tracce lo scorso 17 febbraio, dopo aver parcheggiato la sua Fiat Panda ed essere scomparsa nel nulla. Oggi a rendere più complicate le ricerche che hanno ripreso a interessare la zona di Suchivo, battuta anche con il sistema GPS, ci si sono messe anche le avverse condizioni meteo. Il forte vento che si è abbattuto sull'isola non ha infatti consentito ai droni di poter volare nel pieno delle loro funzionalità e infatti gli stessi hanno smesso di operare già nella mattinata. Le ricerche sono proseguite a piedi ma senza esito. Il consueto briefing tenuto da Laganà, Giglio e Maggi insieme al prefetto di Napoli ha confermato che anche in questo fine settimana si continuerà a cercare Antonella, sulla cui scomparsa continua ad esserci un alone di mistero a tratti anche difficilmente comprensibile prima ancora che spiegabile accompagnato da una sensazione sempre più marcata, quella che il suo sia stato un allontanamento volontario. Il resto però si tinge di giallo.